Anticipazioni, Mare fuori 4, ecco tutto quello che sappiamo su una delle serie più attese del 2024. Ci eravamo lasciati con un colpo di pistola che aveva lasciato un cliffhanger clamoroso, non sappiamo i destini di Carmine, Don Salvatore e di Rosa, perché nell'ultima puntata di Mare fuori 3 si è chiusa con il vedo non vedo di quello che è successo in quei sotterranei e quindi siamo pronti a anticiparvi alcune delle cose che succederanno senza fare spoiler, ma svelandovi la data d'uscita ufficiale di Mare fuori 4 e quello che ci aspettiamo, i ritorni nel cast, chi ci sarà, chi non ci sarà, e cercheremo di capire come si evolverà la vicenda in una delle più grandi serie della RAI degli ultimi anni. Durante la festa del cinema di Roma però erano stati già fatti vedere i primi due episodi di Mare fuori 4, quindi qualcosa la sappiamo, ma non spoilereremo per chi non li ha visti, per chi non ha partecipato alla festa del cinema e per chi non vuole perdersi alcuna anticipazione, alcun colpo di scena che vedremo nei primi episodi della prossima stagione. Ma quando esce la quarta stagione di Mare fuori? Allora, diciamo subito, dal 1 febbraio 2024 saranno disponibili tutti e 12 gli episodi della quarta stagione di Mare fuori su RAI Play, mentre dal 14 febbraio, quindi da San Valentino, inizierà la trasmissione degli episodi di Mare fuori su RAI 2 in prima serata. Ricordiamo che le prime tre stagioni della serie sono già disponibili su Netflix, per chi non le avesse viste, per chi vuole recuperarle, per chi vuole arrivare preparato all'appuntamento con la quarta stagione della serie. Ma chi ci sarà in questa quarta stagione? Allora, diciamo subito che se inizialmente nessuno dei tre coinvolti nell'ultima scena di Mare fuori 3 aveva dato una certezza di esserci, possiamo dirvi, e è su tutti i giornali, che Massimiliano Cagliazzo, ovvero Carmine, ci sarà, ha confermato di esserci, nella quarta stagione, così come Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci. Ci sarà il capitano, Massimo, ci saranno Edoardo, Cardiotrap, Pino, ci saranno Cubra, Silvia, Beppe, il mitico Beppe, Milos, e lo stesso Don Salvatore Ricci hanno confermato la presenza. Fermo restando che non sappiamo se uno dei tre protagonisti dell'ultima scena di Mare fuori 3 sia rimasto ucciso o ferito, ma cercheremo di capire con le prime puntate quello che è successo in ogni caso torneranno tutti e tre, perché è evidente che la prima puntata di Mare fuori 4 ci svelerà cosa è accaduto in quei sotterranei e quindi ci saranno anche tutti e tre gli attori che hanno interpretato quella scena. Ci sarà una new entry, l'attrice Valeria Andrea Noh interpreterà una nuova detenuta, mentre è stata confermata la presenza di Sofia, Lucrezia Guidone, che guida il carcere come direttrice al posto di Carolina Crescentini, che non fa più parte della serie. La regia è affidata sempre a Ivan Silvestrini, dopo che la prima stagione invece era stata diretta da Carmine Delia, Ivan Silvestrini che cercherà di continuare con i colpi di scena e con le avventure dei ragazzi dell'IPM di Napoli per tenere alta l'attenzione del pubblico e immergerci in quella che è la nuova vita dei ragazzi e il loro passaggio verso l'età adulta. Come dicevamo, non ci sarà Carolina Crescentini e nemmeno Filippo Chiattillo e nemmeno Nadizza che hanno lasciato la serie al termine della terza stagione. Mancheranno all'appello, come ricorderete, anche Gemma, Litz e Opirucchio, che sono tutti andati via dal cast, chi per un motivo, chi per un altro, al termine della terza stagione. Ecco, a questo punto però vogliamo anche anticiparvi di quella che è la trama delle prime due puntate di Mare fuori 4, quindi se non volete spoilerarvi nulla vi consiglio di passare oltre, ma se volete sapere anche quello che è stato trasmesso durante la festa del cinema di Roma, le prime due puntate di Mare fuori 4, ebbene, avremo la soluzione all'enigma, come ci eravamo lasciati nel finale della terza stagione, con questo colpo di pistola. Ebbene, questo colpo di pistola è partito da Carmine che ha ferito Don Salvatore Ricci. Rosa, lì per lì, cercherà di isolarsi e dire no, mi prendo la responsabilità del colpo, quindi dirò che ho sparato io, rivelerà a Carmine, andrà a trovare il padre in ospedale che la perdonerà e però le dirà che non si fiderà mai di un di salvo. Tra l'altro, in questa prima puntata di Mare fuori 4 ci sarà un flashback molto interessante in cui si rischia di vedere la madre di Rosa Ricci che sarebbe ancora viva e rinchiusa, secondo le prime anticipazioni, in un ospedale psichiatrico. Eravamo rimasti anche con un altro mistero, cioè Edoardo, fermo tra la vita e la morte, sul letto d'ospedale, aprì gli occhi alla fine della terza stagione, ebbene, è fuori pericolo Edoardo e scopre che nello stesso ospedale dove è ricoverato c'è appunto Don Salvatore Ricci con il quale ha un conto in sospeso perché sa che è stato Don Salvatore Ricci a tendergli un agguato per ucciderlo. Ebbene, Edoardo lì in ospedale sarà sempre in mezzo a questi due fuochi che sono Teresa e la moglie, ma cercherà di uccidere un'altra volta Don Salvatore Ricci soffocandolo con un cuscino. Quindi, chissà, se Don Salvatore Ricci, dopo essersela scampata alla fine della terza stagione, invece, perirà all'inizio di questa quarta stagione. Non lo sappiamo, non si vede nei primi due episodi, ma sicuramente ci sarà da divertirsi. Capitolo Beppe. Ci sarà una piccola sorpresa, insomma, per i fan del grande Beppe. Ci sarà un avvicinamento molto particolare, curioso, non ce l'aspettavamo, con la nuova direttrice del carcere minorile, Sofia, dopo uno schiaffo, che ci sarà uno schiaffo che lei darà a lui, e i due si punzecchieranno e si avvicineranno anche a livello affettivo. Nel frattempo, Beppe, comunque, continuerà a coltivare il suo rapporto con la figlia Cubra, e anche il loro rapporto avrà un'evoluzione. Tornerà Silvia, dicevamo, mentre Cardiotrap invece si invaglierà di una misteriosa nuova detenuta che entrerà nell'IPM, che quando lo sentirà cantare cambierà totalmente il suo modo di rapportarsi a lui, e cercheremo di capire chi è questa new entry. Esploreremo anche il rapporto molto particolare tra Milos e Cucciolo, con Micciarella, che non accetta questo amore, farà di tutto per impedire che i due possano avere una relazione vera e propria all'interno di un posto come un carcere minorile. Come ha confermato Ivan Silvestrini, il regista della serie, questa quarta stagione vedrà i detenuti diventare maggiorenni, perlomeno la maggior parte di loro, e quindi un cambiamento epocale con le passate stagioni, combatteranno con i loro demoni, e ricordiamo che la serie è stata girata anche questa quarta stagione presso la Marina Militare di Napoli, al porto e si basa sul carcere minorile di Nisida, che si trova proprio a Napoli. Per chi si stesse chiedendo se sono in programma altre stagioni dopo questa quarta stagione, vi rispondiamo sì, è già stata programmata una quinta e una sesta stagione di Mare Fuori, e noi vi terremo aggiornati, come al solito, su tutto quello che riguarda questa serie. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina, mi raccomando, per restare aggiornati su tutti i nuovi video, e seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie TV. Al prossimo video!